Da Simone Plasti volevamo un urlo per la partita, uno di quelli che sai fare te, per non mollare. Ottimo, ottimo, ed ecco qua, Massimo Vassura, se lo stai al camera di Alvesa Channel, va perché è sempre prodigo di consigli, a fine partita fermati che ti ha fatto l'intervista. Io quando finisco l'intervista vado via, sono vinto. Ora fai l'intervista adesso. Qualche bella parola per la squadra. La sigaretta è magari due che non fanno mai allenamento, che quindi dobbiamo prenderle nella partita. Ecco il nostro. 3-0. Buono, abbiamo fatto il pronostico ancora, tu sei il primo. Qualche parola sulla squadra. Quale? Sulla nostra. Sulla nostra. Qualche pronostico? Un pronostico sul canzionato, non sulla partita. Diciamo che siamo come la Juventus. Oggi dovrà cominciare. Oggi, oggi siamo partiti a due, ma iniziamo noi 1-0. E un'altra pronostica su tutto il campionato. Se non è appuntiamo al terzo posto, non più. Nessuno. Un saluto a Vita Channel. Stamissi a Vita Channel. Grazie. Taffa Alba. Allora, dimmi se hai delle cose. Non ho fatto qualche scuola. No. Solo il calcetto. Solo il calcetto. Allora, anni, qualsiasi hai? 21. Ruolo? Il ruolo faccio certino di febri. Niente, fai qualche gol. Allora, dimmi se lo sono. Allora, dimmi. Allora, dimmi. Allora, dimmi. Chiava bene. Allora, dimmi. Allora, dimmi. Chiava bene. Niente, non. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione